Il capitolo 5 ci porta nel regno animale, partendo però da una sostanza, il lievito, che in realtà è un fungo e rimane quindi un po' a cavallo fra il regno vegetale e il regno animale. Regno vegetale perché è un fungo, regno animale perché è così ricco di nutrienti da poter essere paragonato a una proteina animale. Il lievito è un ingrediente del passato che sopravvive anche al presente, un ingrediente di gusto molto importante che io tratto in maniera approfondita parlando di lievito attivo e lievito inattivo, di lieviti microincapsulati, dei brevetti particolari che permettono di arrivare vivi anche dopo la cottura della Boily, degli estratti di lievito, i lieviti idrolizzati, i lieviti liquidi e l'integratore a base di lievito. A seguire trattiamo le uova che sono un ingrediente fondamentale della realizzazione della Boily ma che molti mettono nel contesto di ingredienti di natura meccanica mentre in realtà l'uovo ha talmente tanti nutrienti nei suoi comparti fondamentali che può essere visto anche come un ingrediente nutritivo e quindi viene trattato l'uovo intero e i suoi utilizzi, l'albume, il tuorlo e tutto ciò che è a base di uova, quindi la crema pasticcera, i liquori d'uovo ma anche le uova di pesce che sono degli ingredienti molto particolari. Dalle uova si passa al latte, un'altra famiglia di ingredienti molto interessanti e del latte trattiamo tutto, parlando ovviamente delle farine di latte, latte intero, il colostro, il latte scremato, il siero di latte, il latte zootecnico, la crema di latte, la panna di latte, lo yogurt, il formaggio, tutti ingredienti che si trovano in polvere e sono molto utilizzati nel mondo della pesca, meno magari in quello del carfishing ma il formaggio è uno dei più forti attrattivi per la pesca del barbo ed è molto stimolante anche per la carba. Poi parliamo del kefir, del lattosio, del burro, del latte condensato, dei liquori di latte, degli aromi a base di latte per arrivare poi al comparto delle proteine del latte, questi ingredienti meccanici fondamentali che vengono da me trattati quindi scomponendo in quelle che sono le caseine, caseina acida, caseina arenetta, caseinati di sodio, di calcio, di potassio, le proteine del siero isolate, concentrate, idrolizzate e così via al mondo animale si arriva agli insetti. Un altro paragrafo del mondo animale interessante ma poco sfruttato dal carpista e qui parliamo di tutti quegli insetti che si possono trovare secchi e quindi polverizzabili, inseribili nel mix, nel method oppure negli stick mix e via dicendo le tarme della farina e i grilli, la crisali del baco a sete, il bigattino, le larve di zanzara, le farine proteiche di insetto sì perché gli insetti saranno l'alimento del terzo millennio e quindi già si trovano farine proteiche ricavate dagli insetti. Per arrivare poi anche ai pastoncini, i pastoncini ornitologici, i beer food, carichi di insetti, quelli proprio creati per uccellini insettivori. Dagli insetti si arriva alla carne e agli organi di senso, e agli organi, no di senso scusate, agli organi interni e quindi tutto ciò che è della carne utilizzabile come innesco, tipo i giustel, gli insaccati, inneschi storicamente antichi, le creme in scatola, le creme spalmabili, le farine di carne, le farine di ossa, le farine di piuma, le gelatine di carne, le proteine della carne, poi il fegato e i suoi derivati, l'idrolizzato, il liquido di fegato, la trippa, gli estratti di carne, i brodi di carne. Da qui ai pesci e i loro derivati. E qua un grosso paragrafo sui fish meal che tratto tutti, dal white fish al fish meal standard, la sarda, l'lt, il salmone, il tono, il predigerito cileno, le proteine solubili del pesce e i liquid food prodotti a partire dai pesci, gli idrolizzati di pesci, le salse fermentate di pesce, che sono state una mia grande scoperta degli anni 90, le paste di acciughe, i patè di tonno, di salmone, le salse di pesce fermentate nelle varie tipologie, perché ogni, diciamo, etnia e ogni paese del mondo ha sviluppato la sua salsa di pesce fermentate, le tratto tutte, gli oli di pesce, i vari tipi, salmone, sarda, via dicendo, per arrivare alla sottofamiglia, paragrafo, dei molluschi e dei crostacei, dai gamberi, il belacian, il krill, la seppia, il GLM, il blue muscle, le ostriche, i brodi, i fumetti di crostacei, a chiudere questo corposo quinto capitolo sugli ingredienti di origine animale.